E' bastato un attimo. Un attimo di distrazione e una tranquilla giornata di primavera a Camigliatello Silano si è trasformata in una tragedia. Un attimo perché la piccola Mirella di soli 13 mesi chiudesse gli occhi per sempre. Un attimo perché sfuggisse alle attenzioni della mamma e dei nonni e corresse dietro al papà che in quel momento stava spostando il SUV del nonno e non si era accorto che lei fosse lì. Lì pronta ad aspettarlo, ad abbracciarlo, forse l'aveva seguito perché non voleva che andasse via e invece è stata lei ad andarsene per sempre. Mirella finita sotto le ruote del fuoristrada non ha retto il colpo. Pochi minuti dopo l'impatto il suo codicino ha smesso di battere. A nulla è servito l'intervento immediato del 118. Inutile l'arrivo dell'elisoccorso nel vicino campo sportivo. Il padre non riesce a darsi pace. Una famiglia spezzata, due genitori sotto shock. Eppure un attimo prima erano lì, in giardino a godersi la bella giornata sotto il sole di mezzogiorno. Un attimo dopo la piccola è sfuggita al loro controllo e il padre, che non avrebbe mai potuto vedere la sua minuscola bimba dietro quel colosso di automobile, ha ingranato la retromarcia e l'ha investita. La mamma e i nonni non hanno avuto neanche il tempo di urlare per avvertire l'uomo del pericolo. È successo tutto troppo in fretta. Giunti sul posto, incontrata a croce di Magara, anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e per progare gli animi. Alla vista delle telecamere, infatti, la disperazione si è trasformata in tensione. A farne le spese un operatore di ripresa la cui auto è stata presa a calci da alcuni amici e parenti della vittima. A quel punto giornalisti e fotografi sono stati allontanati per sicurezza dai carabinieri e hanno potuto osservare da lontano quello che stava accadendo e le scene strazianti che si susseguono intorno alla casa della famiglia.